Il Signore vi assista e vi accompagni in questo vostro cammino. Un incontro può cambiare la vita in bene e un incontro può cambiare la vita in male. Io ho visto anche come il male dà sempre una ricompensa brutta e quello che fa notizie è sempre la notizia brutta, la notizia che buca lo schermo. Ma poi avvengono mille cose belle invece dove la notizia non riesce a passare, fa il bene e fallo sapere, diceva San Giovanni Bosco. Non per vandartene, fallo sapere perché qualcun altro che lo viene a sapere possa avere il desiderio di farlo insieme a te.